Passa attraverso le immagini che testimoniano l'evolversi del fenomeno erosivo a Capodorlando la possibilità di comprendere la portata di un problema che rischia di mettere a rischio infrastrutture ed abitazioni e di far perdere il volano turistico del territorio, ovvero la spiaggia. Il lavoro di catalogazione delle foto degli ultimi 30 anni è di Enzo Bontempo, storico esponente di legambiente, che da decenni si occupa di erosione. Nella prima immagine la spiaggia di Capodorlando agli inizi degli anni 80, quando era così ampia e profonda che nel corso della festa padronale si posizionavano sulla spiaggia le giostre per bambini e ragazzi. Nel 1984 vengono collocate lungo la trassiera marina 17 scogliere frangiflutti. Queste hanno intrappolato gran parte del trasporto litoraneo di sabbia, lasciando quasi completamente privi di alimentazione la spiaggia antistante lungo mare all'abitato. Va ricordato che il flusso di sabbia si muove radente alla costa in direzione prevalentemente e lungo tutta la costa tiranica siciliana è rivolto verso Levante per la prevalenza delle onde di Maestrale. Tra il 1988 e il 1990, dopo alcuni mesi, nella zona immediatamente sotto frutto alle scogliere, continua a ridursi la spiaggia fino a scomparire. E siamo al 1996, un fronte di 400 metri, privo di spiaggia, con il muro della carreggiata stradale crollato e distrutto dalle mareggiate, è il periodo dell'intervento sirito. Nel 2008, in mancanza della prevista manutenzione della spiaggia, a seguito di un progetto stralcio dell'intervento di ripascimento, si interviene sui pennelli in modo di trattenere il più possibile la sabbia in cammino lungo la battigia. La conseguenza fu il crollo del muro e del marciapiede nei pressi dell'hotel Il Mulino e la riduzione della profondità della spiaggia nel tratto di via Roma e via Umberto. Nel 2011 si interviene nuovamente, vengono realizzati altri tre pennelli lungo il tratto di ritorale tra via Portosalve e via Duilio. Nell'aprile del 2012 si verifica il stifonamento del marciapiede davanti al Piazza Caracciolo e mesi dopo, danni si vengono provocati alla rotonda sotto via del Fanciullo. Dopo l'intervento del 2011, la spiaggia sotto l'Auletta, l'ultima naturale che era rimasta a causa del blocco dell'alimentazione, è entrata in crisi ed ecco come è oggi. Grazie a tutti.